nell'episodio precedente no io io e vabbè no no scemo no io eh no va faccina fai te no senti allora non mi interessa eh sblocca ci ho fatta oh no ale stai nella luce per proteggere i nostri sopravvissuti abbiamo piazzato delle aree restritte con alta sicurezza vuoi aprire le aree restritte si voglio farlo ah ecco mi sa che abbiamo aperto il cancello posso tornare indietro adesso credo di si si vedi eccolo oh bene andiamo ok è ancora un garage oh no ok ho capito dobbiamo stare nella luce e non abbiamo torce come no no ok questi nel buio ci massacrano la 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 dobbiamo andare lì lì nella luce ecco ci sono siamo appreso dai cerchiamo di essere più allineati possibili allora andiamo a destra oh no aspetta eh eh aspetta un attimo non è possibile no no corri oh no oh no ci sono bravo ale ok ho capito come funziona sto livello quindi allora a fianco abbiamo un'altra zona con la luce quindi andiamo lì andiamo vai non ci credo non è qua che dovremo andare mi sa dannazione dannazione ale invece c'è madonna non puoi immaginare per quanto non t'ha preso qua non c'è niente dove dovremmo andare a destra porca miseria questi si accendono subito ci sono ecco ecco hai trovato una torcia no oh ma siamo dei fenomeni di oh allora ale qua c'è scritto c'è una stazione alla sinistra e divertimento alla destra io direi di andare qui io mi bevo allora questo è uno dei livelli più difficili dei backrooms è un posto ristretto dove non è che ti puoi nascondere ovunque come nel barcheggio e c'è un mostro che carennemente ti cerca n n n ma oh niente aspettami tocca è mia vabbè ale ti faccio luce bello mamma mia vado dietro che c**o fai non vedo niente non mi piace il suono di quello dovrei CORRERE ma non cambiamo dietro abbiamo lo stesso mostro del garage via 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 no ma non dovrebbero ancora uaaaah vai avanti vai avanti che cos'era ah ok ci sai bene che gioco ragazzi allora per essere un gioco con tanti bug belli per il VR è un gioco fatto bene Che è vero Ok qua ci Qua dobbiamo puzzle Vediamo un po' Che cavolo era quel rumore? East substation West substation Generatore Alta voltage Allora spiego perché non si è capito niente Dobbiamo andare in tre luoghi E attivare dei contatori elettrici I punti rossi sono i contatori elettrici spenti Ah il contatore elettrico Ok devo Quello in alto anche? Ah ok Va bene Allora scusa adesso mi sto un po' dividendo Tutti i contatori elettrici sono dove siete Io ho attivato il contatore e adesso è verde Si qualcosa qua si è attivato ma non tutto Ci sono due luci verdi ma una rossa Ok Io ecco io ne ho trovato un altro Lo attivo Che bello Semmo un elettricista Ok Ah qua si è aperto il cancello Vieni da me Ah qua questo si è aperto Ok Quando attiveremo tutti gli altri contatori elettrici Si aprirà quel cancello laggiù mi sa Quindi adesso cerchiamoli Acqua A questo punto prendo solo io l'acqua Ecco generatore Allora Off 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 E Off Fatto Oddio E No c'è un cane E il mio cane quando vuole ritornare a casa E il mio cane ha fatto un casino in casa Ok Là c'è un contatore Allora vediamo un po' E off Qua il cane ha distrutto il muro Mi si sono parecciate delle facce davanti Qua che c'è Non c'è niente C'è un contatore? Si Là Ma perché tu Oh generatore Ah stavolta l'ha sconato qua Ok Cambiano questo schifo Io so che lì c'è un contatore L'ho visto Good evening Invece c'è Corri Yudi È andato a sinistra Bene Via Non so che sto facendo Credo che sto spegnendo tutto Chi è? Dov'è? Ale che c'è? E' andato Dov'è? Vabbè andiamo via da qua va Io voglio un livello No Le facce No Cos'è successo? Ah forse non ho sanità Tu hai visto le facce perché non avevi sanità Ho detto di prendere l'acqua Oddio la mia sanità Ah ho aperto questa porta Ah Ale Lo dobbiamo accecare Oddio Vuoi? Mi sa di sì Eh va bene Ok Ale mi serve una mano eh Sei andato Fatto uno Vai 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 Attento a non andare nelle pozzanghere C'è una porta lì Andiamo in quella porta Oh Apro la porta Aperta No Vattene via Vai via Vai via Vieni qui Ma questi sono tanti Dai Wow Io vado qua eh Mi fido della freccia Ok Ok mi sono fidato bene Credo che stiamo andando dal generatore Qui? Qui mi sa Sì sì Oh among us Non c'è nessuno La mia sanità sta scendendo Dobbiamo trovare acqua Guarda Vieni qua No vabbè Sono in un nuovo posto Credo che l'ultimo generatore sia qua Eccolo Credo sia questo Ok 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 Ce la facciamo Ale Forse Ho acceso una Ho acceso Che c'è? Perché sei qua? Esatto Corribiano Ciccione Credo che posso andare via Provo a tornare indietro Ah ho trovato uno shortcut Bene 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 So dove sto andando credo spero Sì Ci ho fatta Sì Ci ho fatta No no invita C'è una porta Come porta? Sì Sì Mamma mia che livello Era molto più brutto questo E poi il resto ho fatto da solo Quindi era più brutto Vabbè Sei vivo? Ehi Dove siamo stavolta? Non so ma ci stanno dei tuoni Non andare indietro fai schifo eh Ah E la tua corcia Allora la mia sanità è quasi alla metà Devo trovare acqua Che cos'è questo posto? Che cos'è? Oh Vedo qualcosa Cambiamo in un posto molto alto Juice Ho trovato qualcosa da bere Bevo Per la mia sanità Sai Ho trovato una bevanda che mi bevo Oh Gesù Oh Oh Energy Bar Ho trovato una barretta energetica Me la mangio subito Vediamo come Qua c'è una porta che è circondata da buio E mi sa che di qua si va avanti